Un rinoceronte dello zoo di Tuarì alle porte di Parigi, dopo essere stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, è stato privato del corno, tagliato con una motosega. Secondo alcune fonti, un corno di rinoceronte può valere fino a 40.000 euro e proprio questa causale potrebbe essere alla base dell'accaduto. È un enorme problema in Africa il braconaggio, ma una cosa simile non si era mai vista in uno zoo, ancora meno in Europa, che i braconieri entrino e facciano liberamente cose del genere è inimmaginabile. Nello stesso giardino zoologico sono ospitati altri due rinoceronti, uno di 37 anni e un altro di 5, entrambi scampati al massacro.